Grazie Presidente, si tratta di una proposta di acquisizione aree a titolo gratuito ovviamente in base al federalismo demaniale, cioè si tratta di aree all'interno del Comune di Roma, nell'area in questo caso all'intorno del cosiddetto via Baldo degli Ubaldi. Sono aree che ricadono all'interno di un programma di recupero urbano e che il demanio mette a disposizione il Comune di Roma per realizzare alcune opere di interesse pubblico. Pertanto la delibera individua con precisione il numero delle particelle da acquisire al catastro, si tratta di nell'area della stazione Valle Aurelia di particelle che verranno dedicate poi alla realizzazione di un capolinea dell'ATAC vicino al nuovo intervento all'interno del programma di recupero urbano Valle Aurelia. Le aree sono due piccole aree non molto impattanti ma strategiche per la realizzazione dell'area. Grazie.